L'offensiva russa contro l'Ucraina continua, nonostante all'orizzonte ci sia il secondo round di colloqui che, secondo quanto dichiarato dal consigliere capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, riportato dall'agenzia TASS, si svolgeranno nella tarda giornata di oggi. Prima della comunicazione del consigliere, il presidente ucraino aveva fatto sapere che lo svolgimento dei colloqui era incerto dal momento che il suo paese continuava ad essere sotto attacco. Il ministro degli esteri russo Lavrov sostiene che l'indecisione che ha caratterizzato l'inizio della seconda giornata di negoziati è da imputare ad una volontà americana di ritardare il dialogo. Lavrov ha poi aggiunto che se dovesse scoppiare un terzo conflitto mondiale si tratterebbe di una guerra nucleare. La NATO invece valuta la richiesta di Kiev di istituire una no-fly zone sui cieli ucraini. Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri e ha approvato all'unanimità il decreto legge che prevede misure urgenti per fronteggiare la crisi internazionale che si è aperta con l'attacco russo all'Ucraina. La bozza del decreto prevede che l'Italia possa inviare in deroga mezzi materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina solo dopo aver consultato le camere e aver ottenuto il via libera da esse e solo entro il 31 dicembre 2022. Spetta al Ministro della Difesa, in coordinazione con quello degli esteri e dell'economia e finanza, silare la lista degli aiuti militari da inviare. In Consiglio dei Ministri si è anche deciso di istituire lo stato d'emergenza fino alla fine del 2022. Al contempo, il decreto prevede anche interventi utili a fronteggiare la chiusura dei rubinetti del gas russo. Tra le altre misure, anche l'immediato razionamento del gas utilizzato da centrali elettriche e termoelettriche. Stando alle stime preliminari dell'Istituto Nazionale di Statistica, nel mese di febbraio 2022 l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 5,7% su base annua. Questa accelerazione dell'inflazione su base tendenziale è dovuta in modo prevalente ai prezzi dei beni energetici, che a febbraio segnano un'impennata a più 45,9% sull'anno precedente. Crescono anche i prezzi dei beni alimentari per la cura della persona e della casa. L'Istat certifica la straordinaria ripresa del PIL italiano nel 2021. Il prodotto interno lord italiano è cresciuto del 6,6% in volume e rispetto all'anno precedente il PIL ai prezzi di mercato è aumentato del 7,5%. L'Istituto Nazionale di Statistica sottolinea anche che nel 2021 l'economia italiana ha registrato una crescita di intensità eccezionale per il forte recupero dell'attività produttiva, dopo un 2020 caratterizzato dagli effetti dell'emergenza sanitaria. Ad aiutare il PIL nella sua ripresa è stata la domanda interna, mentre quella estera non ha inciso in modo particolare. Il debito pubblico italiano è sceso di 4,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente, arrivando al 150,4% del PIL. Grazie a tutti.